Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi volevo farvi vedere questo pacchettino che mi è arrivato dalla D-Kids. Squishy Mellows, mangiami, squishami e mangiami, squishy mashymellows. Sono dei mashmellows da mangiare che si possono squishare prima le squishy e poi le mangi. La confezione è questa, ce ne sono dentro 12 diversi. Qui c'è il solito puscoletto, vedete, fatevelo sempre dare. Ci sono tanti giochi, novità, ricette di mashmellows, vedete? E' molto molto utile, mi scuso per la mia voce un po' così ma ho avuto l'influenza, tosse e ancora non sto tanto bene. Vedete, questo è il magazine. Allora, ne aprirò soltanto uno e il resto ve li faccio vedere dalla confezione. Perché è un peccato a prenderli tutti, visto che non devo mangiarli, mi mangierò il maritozzo per questa dieta. Allora, ecco, hanno la bustina così, allora sì, ok, posso aprirli così. Guardate, il profumo di frutta, ma meraviglioso, fragola. Guardate, squiscia, e poi si mangia. Vedete? Questa è una fettina di torta, credo, sì. Guardate che carina. Adesso apriamo l'altro. Uh! Pettina di torta di questo bel violetto, guardate, con all'interno la crema rossa. Profuma d'uva, no vabbè, buoni, peccato che non posso mangiarli, pole fine, pole fine, poi queste faccine sono adorabilissime. Speriamo anche questo. Guardate. Oddio la faccina, no vabbè. Questa è super bella, è rosa. Hai gli occhietti. No vabbè, guardate. Mi raccomando, dovete assolutamente prenderli, polettini e polettini. La moji, le moji gialla, no vabbè. Le moji gialla classica, io le amo, ve lo dico. Guardate. Adesso questo. No, il cupcake. No, vabbè, no vabbè, ma che è? Uno più bello dell'altro, guardate. Mmm, che profumi. No, vabbè, ma che dire, polettini e polettine. Guardate questa che carina. No, ma è stupenda. Sono buonissimi sicuramente. Mi raccomando, non un cappoteca giurro. Guardate. Vedete? No, vabbè, ma che sono. La cuccioseria in persona, questi scivello da mangiare e squisciare. Guardate, una specie di spugnetta. Guardate, che carina. Adesso questa. Guardatela. No, vabbè, ma niente. Questo è un peletto un po' più dura, però è buono sicuramente da mangiare. Guardate, guardate che carina. Mancano le ultime tre. No, vabbè, questa è la cuccioseria in persona. Guardate. 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 Vediamo questo. No, vabbè, ma io li adoro. Sembra peccato mangiarli. E guarda, il tozzo gradirà, gradirà. No, ma che carino. Guardate. E adesso questo, l'ultimo. Profumano tutti di frutta, polettine e polettine. Bene, polettine e polettine. Mi raccomando, comprate questi buonissimi mercinello, bacalinissimi. Ringrazio la di Kittes per questa bellissima collaborazione. Un bacione. Che dire, polettine e polettine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che vi siano piaciuti anche questi squishy da mangiare. Per chi volesse mandarmi un pacchetto, può fare la femmoposta che trovate giù nell'info box. Ho una letterina. Per chi volesse mandarmi un email, il mail è ringrazia.catalanogiacciolotv.it Io vi ricordo che ci sono le mie magliette in vendita. Link giù nell'info box. Che dire. Vi mando un grossissimo bacione. Un abbraccio immenso. E al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.